Buonasera, è stata una partita veramente combattuta. Nei primi due quarti abbiamo sofferto molto la loro rapidità e i canestri da tre punti che la Megaride ha tirato veramente bene. Nel secondo tempo, ovvero terzo e quarto quarto, li abbiamo messi in difficoltà con la nostra zona 3-2 e 1-3-1 e siamo riusciti a recuperare dei palloni importanti e ad andare in vantaggio. Purtroppo nel finale loro sono stati bravi a segnare tutti i tiri liberi sui nostri falli e Azzam ha messo un canestro con tre di noi addosso cadendo all'indietro che ci ha spezzato le gambe nel finale. Io personalmente purtroppo ho sbagliato il tiro del pareggio, ma loro mi hanno difeso veramente forte. Purtroppo non sono riuscito a fare di meglio, però complimenti ai miei compagni di squadra perché stasera tutti quanti da chi non ha giocato, chi ha giocato di più, chi di meno abbiamo fatto veramente una grande partita di squadra e se continuiamo così questa è la strada giusta per ottenere dei importanti successi.